buonasera dolcissimi dolcissimi faccio vedere quello che ho acquistato dai cinesi ho preso questo fenifottero quanto è carino quella con la lina e femminuccia sicuro col fiocchettino anzi fiorallino in testa 2,99 euro lo metterò come accessorio sul mobile ho preso queste due mascherine 2 euro e 2 euro 4 euro ha detto il cinese che si possono mettere due mascherine io proverò a me tutte le mascherine che ho 2 euro e 2 euro 4 euro ho preso queste tre penne uno all'unicorno 1 euro e 50 vedete cosa fa la luce e la luce e la luce e poi ho preso quest'altra penna sempre unicorno 1 euro e 50 1 euro e 50 mi sa che è difettoso pure mi sa vabbè non fa niente 1 euro e 50 ho preso quest'altra scusate quest'altra penna fenicottero 1 euro e 50 4 euro e 50 tutte e poi ho preso questo davo di odorante al cocco 48 ore anti respirante 1 euro e 39 poi ho preso questo polino per giulio 2 euro e 99 oddio poi ho preso questo borsellino col gatto che amo anche i gatti questo l'ho pagato 2 euro e 99 poi ho preso quest'altro borsellino sempre 2 euro e 99 la stessa marca angelina e angelina per mettere tutti i miei trucchi e che più tutto questo qua e noi ci vediamo al prossimo video baci 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 ciao ciao